Cari consulenti del credito, oggi siamo in compagnia di Vincenzo Langella, direttore commerciale della Prestito Sifinance. Buongiorno direttore, entriamo subito nel vivo dell'intervista. Quali sono i punti di forza della Prestito Sifinance per un consulente del credito? Buongiorno Francesca ed un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono. Intanto una piccola premessa. Prestito Sifinance mette a disposizione di tutti i consulenti del credito che decidono di entrare a far parte della nostra grande famiglia e ribadisco famiglia tutti gli strumenti necessari per intraprendere col percorso professionale in successo nel settore del credito, sia da un punto di vista formativo che da un punto di vista operativo. Parliamo innanzitutto dell'ampia offerta multiprodotto. Siamo strutturati con un men 5 divisioni. Prestiti personali, gestione del quinto, mutui, finanziamenti alle imprese e prestiti finalizzati. Ognuna delle divisioni è organizzata con un top di visual manager ed un back office qualificato a supporto dei consulenti. Questi ultimi possono contare anche su una presenza costante sui territori degli executive area manager di riferimento. Negli anni abbiamo avviato la nostra offerta commerciale e oggi vantiamo più di 50 convenzioni dirette con i principali istituti di credito bancari e silenziali. Questo significa disporre di maggiori soluzioni di credito da proporre ai propri clienti e dunque offrire un servizio di consulenza tailor made. I nostri consulenti sono posti sempre al centro del nostro progetto industriale. Chi entra in PrestitoSì non entra in un'azienda voletante ma partecipa ad un contesto lavorativo dove trova terreno fertile per elevare le proprie competenze e realizzarsi a livello professionale e impersonale. Nello specifico direttore, come è strutturata la rete di vendita PrestitoSì? In tutti questi anni abbiamo sempre tenuto conto dell'evoluzione del mercato della mediazione creditizia, sviluppando strategie che trasformassero ogni sfida in opportunità. Per questo motivo abbiamo strutturato la nostra rete secondo due diverse linee di sviluppo, linee interne e linee esterne. Le linee esterne riguardano la classica rete dei collaboratori, ossia professionisti del scredito che svolgono la propria attività in totale autonomia, avvalendosi del supporto operativo, dei servizi digital e di marketing che PrestitoSì mette a loro disposizione. Le nostre linee interne invece sono rappresentate dalle nostre filiali dirette, organizzate con operatori teleselling additti alla vendita di prodotti di tutti i nostri prodotti di credito, in particolar modo di gestione del quinto. Ogni filiale diretta è gestita da un top manager che cura anche il reclutamento delle figure di junior advisor e contact. Eccoci allora alla domanda finale direttore, per chi un consulente del credito dovrebbe scegliere la PrestitoSì? Grazie per la lavanda Francesca, cercherò di essere quanto più sintetico e solerte possibile. PrestitoSì è l'unica realtà nel mercato italiano della mediazione creditizia ad essere cresciuta in maniera organica sia nel numero dei consulenti che in volumi e fatturati. Sempre più consulenti scelgono di entrare a far parte della nostra rete e credo che questo sia la testimonianza che PrestitoSì è un luogo dove si sta bene. PrestitoSì è un'azienda in continua evoluzione ed espansione. La dimensione umana e la centralità dei consulenti è una vera e propria missione. L'azienda investe continuamente con il principio di offrire più di quelle che sono le aspettative di ogni consulente. Il consulente non viene considerato come un produttore ma come parte di una comunità che si impegna al successo di ognuno. Per questo abbiamo previsto un esclusivo programma di formazione First Class Academy ed abbiamo investito nella ottimizzazione dei tempi e delle procedure realizzando innanzitutto un gestionale di nostra proprietà SpaceNow progettato a misura delle esigenze dei nostri consulenti e avvalendoci di tutte le tecniche di identificazione a distanza per semplificare le operatività dei nostri professionisti. I nostri consulenti possono coltareci servizi di Creamo Valore Italia, una web agency della Holding H2B, servizi che sono fondamentali per lo sviluppo del business e danno a disposizione un'offerta multiprodotto, comprensiva non solo di soluzioni di credito dedicati ai privati e alle imprese, ma anche di noi già a lungo termine. Scegliere pressi così finance significa scegliere una realtà libera nel settore della mediazione creditizia, un contesto lavorativo dinamico e proattivo, meritocratico e motivante. Non mi resta che invitare i consulenti del credito che ci seguono a sperimentare dal vivo la validità dei nostri percorsi professionali. Siamo alla realtà giusta per valorizzare talenti e le più lungimiranti avvenzioni professionali. Grazie direttore e il mio tour all'interno di questa meravigliosa struttura è ormai terminato. Mi congedo ringraziandovi tutti per la meravigliosa accoglienza. Grazie a te per la tua professionalità. Alla prossima!